Turismo e sicurezza è il binomio portato avanti al porto turistico Masuccio di Salerno dove dal primo giugno verrà riattivata la postazione Humanitas di primo soccorso un grande aiuto per cittadini, visitatori e lavoratori del Molo. Qui tutti i giorni passano migliaia di persone per prendere i traghetti. Capirete bene l'importanza di avere un posto di primo soccorso dove una persona colta da malore con questo calore che stiamo avendo già ai primi di giugno, si parla che a giorni si arriverà a 40 gradi avere una postazione di primo soccorso è importantissimo. L'anno scorso abbiamo fatto circa per tutta l'estate 600 interventi persone che sono venute a medicarsi, che si sono fatti male persone che avevano la pressione bassa, l'abbiamo fatta distendere, si sono ripresi con varie patologie, persone che avevano il diabete settimana prossima sarà pronta finalmente l'ambulanza del mare così finalmente in costiera amalfitana in sette minuti da Salerno si arriva da Amalfi e si può prendere un malato e portarlo a Salerno. L'autorità di sistema Tirreno Centrale ha rilasciato lo scorso 20 maggio il necessario nulla a Osta, ritenendo la postazione un prezioso presidio sanitario. Esprimo a nome dell'ente il compiacimento, l'apprezzamento e l'ingraziamento per questa iniziativa che va a beneficio di tutti i passeggeri che utilizzano le vie del mare dal porto Masuccio Salernitano, va a beneficio dei diportisti che ormeggiano le loro imbarcazioni qui al porto Masuccio Salernitano ma anche di tutti coloro i quali lavorano in questo porto.